Ora, disoccupazione in calo e crescita di settori trainanti come l'edilizia e questo è il quadro del lavoro delle Marche presentato in consiglio regionale. Ad Ancona ha partecipato anche una delegazione di disoccupati del Piceno, previsti investimenti da centinaia di milioni di euro per l'adeguamento di scuole e strade. Seguiamo Annalisa Serpilli. Un consiglio regionale tutto dedicato al lavoro nelle Marche con il dibattito sul tema richiesto dai consiglieri dell'opposizione. Il primo intervento è stato quello dell'assessore regionale al lavoro Loretta Bravi. Dopo una premessa dedicata allo scenario europeo e italiano del mercato, l'assessore ha elencato gli ultimi dati occupazionali marchigiani. Nel terzo trimestre 2017 le persone in cerca di occupazione sono state quasi 67 mila in calo di 20 mila unità rispetto all'anno precedente. Ha in ripresa il settore costruzioni, più 10,6%. Il recupero occupazionale c'è, ha detto l'assessora, si è tornati a livelli presisma. Il totale delle risorse a sostegno delle politiche per il lavoro ammonta a 779 milioni di euro, che comprendono tra gli altri aree di crisi, tirocini, formazione, borse e lavoro, politiche sociali, ammortizzatori, incentivi alla creazione di impresa e all'assunzione. E di aree di crisi ha parlato anche l'assessora per le attività produttive Emanuela Bora, che ha ripercorso storie e risultati delle tre aree di crisi complessa delle marche, quella del Piceno, Fabriano e Entroterra Pesarese. Lo scorso dicembre si è chiuso il bando per la presentazione di progetti di impresa tra Piceno e Val Vibrata, 11 oltre a 200 i possibili occupati. Infine gli strumenti per portare e moltiplicare il lavoro in regione. La vicepresidente della Giunta, Anna Casini, ha ribadito il piano edilizio di sistemazione e ricostruzione delle scuole, che coinvolgerà circa un terzo del patrimonio edilizio regionale, con investimenti da 510 milioni di euro. Poi la viabilità con la riapertura della Quadrilatero, la Fano Grosseto, oltre a 400 milioni destinati al ripristino della rete viaria nelle aree colpite dal sisma.